Musica Protagonista di più libri, più idee e gioco forza è il nostro Mario Paternostro. Mario grazie per essere con noi e per raccontare di questa nuova produzione che parte dal video, dal docufilm con Primo Canale Production e poi rientra nella voglia di mettere per iscritto, di raccontare questa tua Genova vista passeggiando. È così? Sì, intanto grazie Enrico di avermi ospitato. È così, è come hai detto, tu parte dal docufilm che abbiamo dato per tutto l'anno passato, quindi con la storia di Genova raccontata attraverso una lunga passeggiata per le strade della città, da tutte le parti, da Sarzano, da Piazza Sarzano al Carmine, da Via Garibaldi a Via Balbi, le colline, la circonvalazione, le due vallate, eccetera, eccetera, per arrivare poi ad una seconda parte con sempre mantenendo la stessa struttura della passeggiata, incontrando dei personaggi che effettivamente in questa lunga vita da giornalista, girando più giornali e arrivando poi al Primo Canale, ho trovato, incontrato e magari intervistato. Ma il segreto di una cosa nata bene e condotta meglio è nella cosa più semplice, cioè la passeggiata, la passeggiata della città e tradurre con gli occhi attraverso l'interpretazione degli occhi la nostra città. È semplicissimo, però è quanto mai bello, è sublime. È così, è proprio così, cioè il passeggiare, cioè quando tu vai in una città nuova in genere, almeno io faccio così, cammino, cammino per le strade, incontro, vedo cose che mi possono interessare e così è stato il nostro docufilm, cioè siamo passati a raccontare, che so, la storia di Margherita di Brabante, perché eravamo davanti al suo bellissimo monumento funebre di Sarzano, del Museo dell'Architettura di Sarzano, e poi siamo finiti a raccontare, che so, Renzo Piano in Porto e a vedere delle sue interviste grazie all'archivio di Primo Canale. Oppure a incontrare gli anni di piombo in via Balbi, insieme a Goldoni che stava poco sotto con la moglie, salire al Righi dove aveva combattuto Ugo Foscolo, scendere in piazza Corretto e incontrare la statua di Mazzini vicino a quella di sua mamma. Insomma, tutto il fatto, logicamente, anche con le testimonianze di chi queste cose le sa, perché io sono un giornalista, non uno storico, e quindi storici, storici dell'arte, storici della musica, che ci hanno raccontato brevemente questi, come dire, questi inciampi che abbiamo trovato facendo a piedi le strade della nostra città. In questo tuo viaggio labirintico, sapevi, perdona la domanda, però, da dove partire e dove saresti arrivato, oppure ti sei lasciato andare, portare dalle sensazioni, dal sentimento? Guarda, sapevo da dove partivamo, cioè siamo partiti da piazza Sarzano, anzi, in realtà dai sotterranei dei giardini luzzati, dove c'è quella meraviglia di anfiteatro romano scoperto pochi anni fa, siamo partiti da lì e siamo andati avanti, con una metafinale, ma la metafinale era sotto il ponte Morandi, perché volevamo fare sentire ai nostri amici telespettatori una emozionante intervista all'architetto Renzo Piano, fatta poche settimane prima che inaugurasse il ponte di Genova e San Giorgio. Sapevamo che arrivavamo lì, ma non il percorso. Quante volte con Jacopo Guastamacchia e con Lorenzo Vigo ci siamo trovati a dover deviare, perché, che so io, trovavamo una targa che ci ricordava, per esempio, che Einstein abitava a Genova in piazza delle Oche, che è tutto un programma, l'idea di Einstein che sta in piazza delle Oche, o cose del genere, cose anche molto più recenti o molto appartenenti al passato, o perché suggerite dagli studiosi che abbiamo consultato e che abbiamo coinvolto, sono stati tutti veramente gentilissimi e tutti di altissimo livello nella nostra passeggiata, incontrandoli un po' da tutte le parti. E abbiamo incontrato così anche grandi personaggi, perché ne hai citati tanti. Credo anche Casanova, no? A seguito di Goldoni. Ma certo. Frequentavano il Teatro del Falcone. Ma sai, esatto, il Teatro del Falcone. Ma sai, veramente, la nostra città ha una storia incredibile, lo diciamo tutte le volte. Però poi io confesso che l'ho letta, l'è giucchiata qua e là. Poi con il lockdown me la sono letta, mi sono letto diverse storie di Genova, partendo da Michelangelo Dolcino, Padovano, eccetera, eccetera, eccetera. E cercando, adesso uso un termine forse improprio, la notizia, da buon giornalista o da vecchio giornalista, cercando la notizia. Cioè che ci fosse sempre, in ogni puntata che abbiamo presentato, uno o più titoli. E senti, i genovesi sono gli stessi. Allora, abbiamo parlato di ospiti stranieri, stupiti dalla nostra città, ma sotto c'è sempre il genovese. Il genovese è sempre quello di oggi, è lo stesso di allora? Il pubblico genovese è lo stesso oppure è diverso, è cambiato? Ma Enrico, tu lo sai benissimo com'è. Lo sai benissimo perché lo senti, li senti tutte le mattine da tantissimi anni e quindi li conosci bene. Siamo fatti in una certa maniera. Anche nel passato eravamo più o meno così. La più bella risposta me l'ha data Gabriella Iraldi, grande storica, che ha scritto un meraviglioso libro sull'avarizia, che è una cosa che io consiglio a tutti di leggere perché è leggibilissimo, si legge come un romanzo. Bene, una volta l'ho detto, ma scusa Gabriella, ma spiegami un attimo, come mai Genova? Sempre, in tutti i secoli c'è Genova, chiamano Genova. Cioè eravamo una piccola repubblica e la risposta è stata perché avevamo i soldi, perché li prestavamo. Quindi, insomma, abbiamo sempre avuto dei motivi. Però diciamo che in effetti la nostra città, più la si vede, non so se ti è capitato di vederla, anche adesso, recentemente, in molte bellissime serie televisive, eccetera, è una città piena di fascino, piena di sorprese, si dice di contraddizioni, ma tutte le città hanno delle contraddizioni. Genova, secondo me, ne ha più delle altre perché ha questo mare che sbatte immediatamente contro le montagne e quindi vive in una striscia sottilissima e ha saputo arrangiarsi, insomma, molto bene. I genovesi in questo sono molto bravi. Su questo penso che i genovesi ricchi di contraddizioni per una volta siano d'accordo con te e con noi. Grazie Mario, ricordate appunto questo libro, Grazie Mario Paternostro, che nasce dalla serie bellissima, so che l'avete seguita su Primo Canale, quindi adesso c'è la risposta scritta ai vostri desideri, Il racconto di Genova. Grazie Mario Paternostro. Grazie, ciao Enrico, buon lavoro. E buona lettura a tutti voi, più libri, più idee, naturalmente. Ti sei perso la tua trasmissione preferita? Rivedila sul nostro canale YouTube. PrimoCanale.it, la TV della Liguria. On Demand. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti